Buon pomeriggio da Pippo Vardelli, oggi parliamo di basket e lo facciamo con il direttore sportivo di Fiorenzuola Biz, Fiorenzuola Basket, Luca Merli. Benvenuto sulle nostre frequenze. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, partiamo dalla notizia più fresca, la notizia più bella. Venerdì siete stati ammessi alla Serie B. Che emozioni avete provato? Quanto è bello essere in Serie B? Eh, questa è una domanda bella, nel senso che un mix di emozioni e preoccupazioni, perché comunque noi siamo partiti qualche anno fa, non tanto tempo fa, con molta umiltà, adesso trovarsi in un campionato del genere, insomma, è una bella emozione, ma come dicevo c'è qualche preoccupazione, perché c'è da tirarsi sulle maniche, insomma. Hai detto preoccupazione, ti faccio subito una domanda sul girone in cui siete stati inseriti, che difficoltà potrete incontrare e soprattutto penso che l'obiettivo sia provare a mantenere la categoria. Certo, sì, sì, certo. Quello sicuramente. In qualsiasi girone ci mettevano, l'obiettivo era sicuramente quello di fare bella figura e di mantenere la categoria nel miglior modo possibile. Se negli anni passati eravamo un po' abituati a vincere quasi tutte, perché insomma siamo andati in finale, eravamo primi l'anno scorso, l'anno prima siamo andati in semifinale, per cui ci siamo tolti qualche soddisfazione, quest'anno non sarà così, dobbiamo mettere in conto che un po' di partite le perderemo, però è una soddisfazione diversa, insomma. Le difficoltà, oltre che quelle tecniche di giocare con delle squadre forti e forse sicuramente più blasonate, ci sono anche delle difficoltà logistiche, oggettive, cioè organizzare un campionato di Serie B dove devi andare in Sicilia, insomma, per noi piccolini non è cosa da poco, dai. Se invece dobbiamo spostare il punto di vista, guardare le cose positive, confermare il coach, confermare la struttura, confermare gran parte dei giocatori, vi può dare una grossa mano in quello che è il processo di avvicinamento al campionato e anche nelle partite. Certo, noi abbiamo confermato tutto lo staff tecnico, abbiamo inserito due assistenti nuovi e quasi tutto la squadra dell'anno scorso, proprio perché la nostra intenzione è quella di costruire una cosa che dura qualche anno, insomma, dal punto di vista tecnico. Non puoi farlo se fai un contratto ad allenatore di un anno, chiaramente, non ci sono i presupposti. Per cui sì, vorremmo dare un po' di continuità e speriamo che questa continuità paghi. In vista della prossima stagione, quest'anno si giocherà anche la Supercoppa, quindi si inizierà prima di un mese, a metà ottobre. Avete già idea di quello che potrebbe essere la data del vostro ritrovo? Ufficiosamente il 24 agosto. Si parte con le attività di preparazione atletica, sempre con Davide Donazzi, che è il nostro preparatore atletico storico, amato e odiato da tutti gli atleti piacentini. Sarà una preparazione molto diversa rispetto agli anni scorsi, perché gli anni scorsi si partiva sei settimane prima dell'inizio del campionato, con una preparazione molto più fitta e molto più intensa. Quest'anno invece sarà un po' più diluita, un po' più soft. Diciamolo a bassa voce, perché non voglio che mi sentano i ragazzi, ma sarà una cosa un po' più soft e un po' più diluita. Abbiamo già steso un'idea di amichevoli, un 7-8 amichevoli in giro per il Nord Italia, per cui sì, stiamo già lavorando. Ti faccio l'ultima su quello che è la normativa per gli eventi al chiuso, quindi con il numero di 200 spettatori. Come la pensate e qual è il vostro punto di vista? Allora, il nostro punto di vista, almeno il mio personale, è che da qui all'inizio del campionato secondo me può darsi che cambiano le cose, nel senso che si sta vivendo un po', non dico la giornata, però la settimana, perché senti anche il telegiornale, aumentano, diminuiscono, aumentano, diminuiscono. Stando quello che ci dicono adesso, la Supercoppa o quella che è a porte chiuse, il campionato poi dopo a porte aperte. Noi faremo le prime partite probabilmente a Codogno, a casa del Pusterlengo, a casa dell'Assigieco, il vecchio impianto dell'Assigieco che comunque è molto grande per noi, se ci venissero a vedere a 200 persone non andrebbe bene, insomma, non ci sono problemi. Però da qui all'inizio qualche pensiero, qualche preoccupazione secondo me ci sarà ancora. Quindi in attesa di quello che saranno appunto gli sviluppi, ti ringraziamo per essere stato in linea con noi. Prego, ci mancherebbe grazie a voi.